La dedica per il nuovo anno scolastico a Cavriglia è sempre speciale. Questo settembre 2017 avvia un connubio tra scuola e realtà sportive locali, come conferma l'assessore alla pubblica istruzione Paola Bonci. Quest'anno sarà l'anno dello sport, un anno educativo e scolastico dedicato quindi ai valori dello sport come attività educativa e di socializzazione. Il nostro intento non è quello di sovrapporsi o sostituirsi alla programmazione scolastica, ma quello piuttosto di essere di supporto e di sostegno ai diversi progetti che fanno parte dell'offerta formativa dell'istituto comprensivo Dante Alighieri e che già cerchiamo di portare avanti. E per l'avvio c'è una cerimonia con una testimonial d'eccezione, ovvero la nazionale italiana di ginnastica Lara Mori. Promuovere le tante strutture sportive presenti sul territorio, creare nuove sinergie tra la scuola e le associazioni sportive presenti nel territorio del comune di Cavriglia e nel territorio valdarnese e far conoscere le altre discipline sportive, non soltanto quelle più note e più frequentate anche dai nostri studenti. Per questo motivo testimonial d'eccezione sarà Lara Mori. Perché Lara Mori? Perché è una campionessa di ginnastica artistica, tra l'altro in procinto di partire per i mondiali di Montreal, perché donna, perché giovane e perché eccellenza in una disciplina sportiva che non è sempre sotto i riflettori.